Eccoci, buongiorno, ho sentito le campane, ho detto ok caruna, è ora di cominciare la diretta. Buona domenica a tutti, oggi è l'ultimo giorno di maggio, sono tanti mesi che alcuni di voi, io no, io ho avuto la fortuna di avere un cane, sono uscita perlomeno tutti i giorni almeno con il cane, però sì, ci siamo accorti tutti che siamo stati molto di più in casa del solito, e questo weekend speravo di fare la diretta dal mio camper da qualche parte, invece i campeggi sono ancora chiusi, allora oggi la facciamo ancora da casa mia. Oggi facciamo una presentazione alla quale tengo veramente tanto ed è un bel po' che non la faccio. Innanzitutto per coloro che non mi conoscono mi ripresento, il mio nome è Caruna, sono un insegnante di yoga e di meditazione, coach, consulente del benessere e degli oli essenziali do terra, nonché di un progetto viaggi. Sono molto dedicata in questo periodo do terra che conosco da tre anni, sono degli oli essenziali purissimi, per tutte le informazioni riguardanti do terra e gli oli essenziali, sulla mia pagina facebook e nonché sul mio canale link telegram, per chi volesse avere più informazioni, ci sono già diverse informazioni. Oggi tiro corto così non perdiamo molto tempo, ma entriamo subito nel dettaglio dei dolori. Da dire subito che i dolori sono diversi, sappiamo tutti che ci sono dolori e dolori, poi anche la soglia del dolore è diversa, ci sono infiammazioni, ci sono batteri, ci sono botte, ci sono anche le botte, uno prende una botta, prende un colpo, io ne ho avuti di diversi, ma una delle mie più grandi clienti è stata proprio mia mamma, la quale siamo riusciti a sfiammare tante delle sue infiammazioni, tanto da non più darle a determinate prodotti dopo però diversi anni di applicazione. E allora i dolori possono accompagnarci anche tutta una vita, purtroppo, in alcuni casi, oppure possono essere una fase acuta, prendo ad esempio una botta, boom, c'è un grande dolore, io una volta non riuscivo a dormire, piangevo per il dolore, fino a quando giustamente la mia amica Angela mi diceva, scusa ma perché non prendi gli oli? Non era abituata, era l'inizio. Giustamente quelli presi, estetti subito meglio dormi quella notte, perciò possono essere acuti o possono essere cronici, possiamo arrivare da tutte le parti volendo, ma ci vuole la costanza, se i miei oli restano sul comodino funzionano veramente poco. E come dice la Claudia Rainville, una grandissima spiritualista, comunque è una persona che ha studiato molto causa e malattia, e lei dice ogni sintomo è un messaggio, infatti la bellezza degli oli essenziali, come la naturopatia in generale, l'omeopatia eccetera, attraverso il sintomo va a lavorare sulla causa. Le cause possono essere disparate. E come diceva Hildegard von Bingen, grande nobile donna, io la chiamerei sacerdotessa e la chiesa l'ha nominata dottoressa della chiesa mille anni fa, lei diceva ogni malattia è uno stato emotivo non elaborato, che ci piaccia o no, questo anche lo yoga lo diceva, però certo è un processo, non tutti possono arrivare a questo, qualcuno dice vabbè c'è una botta, c'è una botta, basta, però ci sono modi e modi per elaborare ciò che ci accade. Gli oli vanno a lavorare in profondità delle nostre cellule, penetrano tra i 5 e i 20 minuti direttamente nelle nostre cellule, questi di doTERRA possono essere ingeriti, utilizzati topicamente o anche inalati. Tutti? No, ci sono alcuni che non possono essere ingeriti. Ad esempio andiamo a vedere il nostro primo olio, per il quale, tra l'altro mi permetto di dire che, come sempre dico, con il kit di base abbiamo la maggior parte degli oli che ci servono, poi ce ne sono tanti altri, ma un olio che sicuramente molti conoscono e tanti si amano è il di blu, che possiamo avere come olio e come crema e possiamo avere come polifenoli, proprio da ingerire. I polifenoli, se andate a cercare magari anche in internet, sono degli antiossidanti. Dove si trovano gli antiossidanti in natura? E qui aspetto che qualcuno ci pensi un attimo, qualcuno ci sarà già arrivato, frutta e verdure crude. Questo è quello che noi abbiamo bisogno per aiutare il nostro organismo a disintossicare, a togliere le tossine. Lo facciamo tutti? Ben pochi. Io ad esempio sono una vegana, ci tengo molto all'alimentazione, curo molto la mia alimentazione, sforo anch'io, non è che sono perfetta, non sforo sul veganismo, ma non mangio tutto crudo, ma gran parte. Gran parte del mio alimento è crudo. Motivo per cui io sono riuscita a mettere a posto anche l'artrosi, che aveva le mani e quant'altro. Ma adesso torniamo al di blu. Di blu sicuramente è uno di quegli oli da avere in casa sempre. La scela è fatta di... Dentro c'è il wintergreen, la camfora, la menta, il tana aceto blu, la camomilla tedesca, l'elicrisio e lo smanto. Sono tutti oli particolari. Il wintergreen contiene in sé delle sostanze, delle composizioni, delle componenti, che vengono utilizzate anche nella medicina sintetica, proprio come antidolorifico. La camfora, lo sappiamo, è un antidolorifico per eccellenza. La menta, proprio la menta anche presa come olio di menta da solo, già aiuta tantissimo contro i dolori e tante altre cose, ma soprattutto anche i dolori. Il tana aceto blu è sempre un oglietto, si chiama il blu tansi, ed è quello che gli conferisce il colore blu. Infatti se noi andiamo a guardare il blu tansi, che adesso non ho qui, andiamo a vedere la goccia. Adesso vi faccio vedere. Non so se riuscite a vederla. Vedete, sì, è un pochettino blu. Ed è anche questa una camomilla, che tra l'altro viene utilizzata in tantissime altre modalità, ma è un antidolorifico per eccellenza. Poi abbiamo la camomilla tedesca, tutte le camomille comunque sono lenitive e rilassanti. L'elicrisio è un po' un olio del sollievo, viene utilizzato per moltissime altre cose, tra cui anche l'emorroide, di volendo gli accumuli di sangue, gli edemi e le vene varicose. E poi lo smanthus. Lo smanthus non si può comprare, indoterra perlomeno, come olio essenziale, perché costerebbe tantissimo, ed è un fiore molto raro. Generalmente è un fiore cinese, però anche questo è molto lenitivo. Perciò il di blu, io già sentirlo così, già uno si rilassa. Sono andata a fare una presentazione, poco prima del lockdown in una casa per anziani, una delle ragazze, uno logopetista mi sembra, quando le dieti, alla fine della presentazione, un po' di di blu da mettere sulla cervicale, si rilassò talmente tanto che mi chiese ma come faccio ad andare a lavorare adesso, sono così rilassati, perché evidentemente c'era bisogno. Infatti il di blu lo usiamo tanto per ogni tipo di dolore, poi vi darò delle ricette, ma soprattutto reumatismi, dolori articolari, i colpi, quando prendiamo dei colpi, l'emicrania e la cervicale. Per l'emicrania ci sono poi tanti altri consigli, ma diciamo che se poi non avete tutti gli altri oli, ma avete il di blu con voi, diluitelo con dell'olio vettore. Noi abbiamo l'olio di cocco, però voi magari avete l'olio di mandorle, giojoba, altri tipi di olio, diffido dall'olio di oliva, perché un po' si sente tanto forte. Pertanto sicuramente il di blu per me, pensate che la mia prima cliente che iscrissi fu mia mamma, proprio grazie al di blu per i suoi dolori, e fu un'altra mia cliente, sempre grazie al di blu che anche lei aveva tantissimi dolori, e la terza o la quarta anche lei, sempre grazie al di blu. E così continuò proprio la storia. Il di blu, diciamo, che viene da Cristina un po' amato da tutti. Però il mal di schiena, Ok, ho detto all'inizio, sono un'insegnante di yoga, perciò avete mal di schiena, venite da me. Io nel 2004 iniziai lo yoga, proprio ai miei diversi problemi di schiena. Do terra non c'era ancora ai tempi, io avevo veramente grossi problemi di schiena, avevo 40 anni, e già non ce la facevo più con la mia schiena, e con la mia cervicale. non curati, andavo sì in palestra, ma non è la stessa cosa. Iniziai lo yoga dalla Cisco, un insegnante che adesso, penso che ha smesso di insegnare, e già quello mi aiutò molto, perché mi innamorai tanto dello yoga, fino a diventarne insegnante. Però, ad esempio, non tutti magari hanno voglia, tempo di fare lo yoga, o avere qualcosa in casa che ci può aiutare, prendiamo una bottiglietta così, vuota, magari un roll-on, li chiamiamo noi, e ci mettiamo dentro 10 cocce di incenso, 10 di elicrisio, di cui ho parlato prima, 10 di cipresso, che ci aiuta a lasciare andare, l'incenso è un antinfiammatorio, un rigenerante cellulare, 10 dell'abete siperiano, che anche lui è un buon antinfiammatorio, menta, che è un antidolorifico per eccellenza, e wintergreen, che in italiano è la gualteria, di cui abbiamo già parlato, un ottimo antidolorifico. Il resto lo riempiamo con dell'olio vettore, e utilizziamo questo lì dove ci sono i nostri dolori. Noi siamo abituati, io no, però di solito la gente è abituata alle medicine, alla medicina classica, cioè il medico ti dà, hai un dolore, prendi l'antinfiammatorio e basta, prendi l'antinfiammatorio, anzi meno ne prendi e meglio è. Con gli oli essenziali, più li prendete e meglio è. Questa è la differenza, prendeteli il più possibile, vale a dire che se il dolore è acuto, ne prendo anche ogni due ore, se il dolore è cronico, almeno due o tre volte al giorno, per vedere i processi. Io a mia mamma, ripeto, gli ho preso più o meno di blu, così puro, di 10 ml, per un buon due anni, con la crema, per un buon due anni, ne avrò usati forse, tre, quattro, cinque di questi, e tre, quattro, cinque o più di crema, mia mamma non ne usa più, 88 anni, vorrei che la conosceste, chi la conosce lo sa, pertanto non ne usa più, non usa più, vabbè, lei non usa nessun farmaco più, perché glielo ho tolti tutti, perciò non usa più antidolorifici, assolutamente, cominciamo dagli antidolorifici, non li usa più. Ogni tanto, e vi farò vedere, ciao Katia, vi farò vedere la ricetta, ve la racconterò, lo shot di morfina, ogni tanto, magari capita che mi dice, o mi dica, oh guarda, c'è un piccolo dolorino qui, le do una capsula, quello che noi chiamiamo lo shot di morfina. Questo, pertanto, per il mal di schiena, lo potete mettere direttamente sul mal di schiena e sulla colonna, così penetra immediatamente nelle vertebre e nel midollo, perché abbiamo detto, va a lavorare profondamente, va dentro nelle cellule, in mitocondrio, fino ad andare a fare proprio un processo all'interno delle nostre cellule. La sciatica, chi non ha già avuto la sciatica, io l'ho già avuta, pertanto la sciatica è una cosa molto dolorosa, la sciatica ha anche a che fare con la schiena e il mal di schiena, fatemi tornare indietro un attimo e quando non mi piego, non mi piego, ma non nel senso fisico, non mi piego a qualche circostanza, qualcosa che mi sta succedendo, non mi piego, non sono flessibile, mal di schiena. La sciatica, invece, è qualcosa che non mi fa andare, qualcosa che, o qualcosa che non mi fa andare nella mia direzione e mi costringe a fare qualcosa che non è la mia direzione. Questa può essere l'infiammazione della sciatica che è questo nervo che passa dietro, attraverso i glutei, scende lungo la parte posteriore della gamba e qui possiamo usare sempre con una bottiglietta da 10 millilitri, qui ci stanno più o meno 180-190 gocce tra olio essenziale e olio vettore. La differenza di olio essenziale e olio vettore è che l'olio essenziale è una distillazione di una pianta dove estraiamo solo le molecole, i principi attivi della pianta che sono l'olio essenziale. invece l'olio vettore è una spremitura di un qualsiasi olio oliva, jojoba, semi di girasole, cocco e quant'altro. Contiene le proteine mentre l'olio essenziale non contiene proteine e non può dare allergie. Può dare delle irritazioni, magari qualche olio non lo sopporto, perciò fate delle prove magari prima all'interno e vedete se vi può dare delle irritazioni. È molto individuale, ognuno può sopportare o meno le cose in modo diverso. per la sciatica oltre a fare un certo tipo di esercizio di yoga che io insegno tanto che è l'allungamento perciò il distanziamento proprio far prendere aria diciamo, a queste fasce, a questi tessuti, l'elicrisio di cui abbiamo già parlato sette gocce, maggiorana sette gocce, camomilla romana sette gocce e lavanda quattro sette gocce la mettiamo in questo roll-on e lo mettiamo lungo di nuovo proprio la parte dove ci interessa ma una cosa molto bella degli oli essenziali qualsiasi olio essenziale sia voi lo mettete nei palmi della vostra mano perché comunque penetra nel nostro sistema limbico nel momento in cui è ispirata ispirata profondamente dall'addome si chiudono automaticamente gli occhi e voi state facendo entrare l'olio essenziale direttamente nel vostro sistema limbico va a rilassare quello che è il parasimpatico per aumentare il parasimpatico e creare equilibrio e vi accorgerete guardate anche i miei occhi cambia proprio l'espressione si viene più voglia viene voglia proprio di chiudere gli occhi e di entrare in uno stato più rilassato questo automaticamente fa rilassare anche il resto del nostro corpo poi abbiamo molti mi dicono no vabbè ma con l'artrosi l'artrite non si può fare niente questi sono delle nostre schemi dell'antica medicina non è così ricordatevi che prima della medicina cosiddetta tradizionale c'era già la medicina naturale si è sempre usata ciao Katia allora cosa possiamo usare sempre di base se non avete altro cominciate con il di blu con della maggiorana con dell'incenso eccetera se avete anche altri oli possiamo entrare più nel dettaglio ad esempio Juniper Berry che lavora anche sui reni lavora pertanto contro le infiammazioni va a sciogliere a lasciare andare i reni e vescica va proprio a purificare maggiorana che è un antinfiammatorio si possono fare 3-4 gocce ognuno camomilla romana zenzero che è un potente antinfiammatorio cianeva e ancora l'elicrisio li mettete tutti insieme questi qua invece li mettete in un cucchiaino di olio vettore e direttamente lo applicate un cucchiaino di olio vettore più o meno sono 5 un cucchiaino sono no meno di 5 millilitri sono la metà di 5 millilitri perciò potete aumentare le gocce 2-3 volte e metterle sempre in un rollone questo lo potete mettere proprio direttamente dove avete bisogno e ve lo massaggiate gli oli non hanno bisogno di grande massaggio non è che devi starli mezz'ora massaggiarti però è anche vero che noi abbiamo una tecnica indoterra si chiama la Roma Touch Technique dove si impara a livello di mani di pianta dei piedi e di schiena insieme alla fontanella tutta la schiena fino alla lombare come non massaggiare ma integrare insieme 8 tipi di oli e miscele lungo alcuni meridiani serve proprio come riabilitativa anche dopo incidenti io so di molte persone che l'hanno fatto e abbiamo molte testimonianze di persone anche a Lugano che l'hanno fatto fino a 2-3 volte dopo post-operatorio e hanno ripreso molto più in fretta comunque anche un rilassante contro le tensioni contro i dolori in generale se conoscete o avete una consulente che ha fatto la certificazione dell'Aroma Touch fatevi invitare per un massaggio gratuito non ho detto niente contro il mal di testa qui permettetemi di farvi solo un'anticipazione sempre con il kit di base quando io mi ero appena iscritta l'avevo preso da poco la mia vicina di casa che abita proprio sopra di me lei soffre da 40 anni di fortissimi emicrani io non lo sapevo un giorno mi bussa alla porta dovevamo andare a Bellinzona insieme a fare una passeggiata sul piano Magadino e non parlava non vedeva non riusciva a camminare io mi sono spaventata pensavo fosse un infarto volevo portarle in ospedale lei mi diceva cerca di farmi capire no tranquilla è solo la mia emicrania che ho da quando ho 12 anni wow mi sono spaventata ero fresca ho il mio librone pronto la mia bibbia ho preso i miei ogli sono andata su gli ho lasciato lì tutti gli ogli che in quel momento secondo la bibbia potevo darle per aiutarla le lasciai di tutto e andrai io e andai perché avevo già preso appuntamento dovevo andare avevo un appuntamento più tardi mi scrisse ancora il suo messaggio non ci potrai credere è la prima volta in 40 anni che io quando ho queste emicranie lo stesso giorno riesco a alzarmi dal letto e andare sul divano non era mai successo prima e tutto questo in appena due ore e non sono non sono menzogne questa è la verità poi non ho detto che gli è passato completamente la sua emicrania però gli ha dato tutto quel beneficio infatti è diventata una mia ecco lei era l'altra di quelle che è diventata subito una mia ottima cliente perché li ha imparati poi a utilizzare per il mal di testa abbiamo diverse diverse possibilità tra l'altro ne abbiamo uno si chiama il past tense sempre in roll on che si può mettere direttamente anche sulle tempie c'è sempre il di blu che possiamo mettere insieme ad esempio anche all'incenso alla menta la lavanda sulle tempie per il mal di testa oppure abbiamo anche che so che ho preso il copaiba c'è una ragazza di Lugano che ha testato il copaiba ha creato proprio un protocollo dove lei quando ha questi attacchi di micrania magari anche un attimino prima per prevenire utilizza il copaiba in un certo modo una resina dell'amazzonia che si può tranquillamente ingerire lei lo mette scusate a me piace far vedere se ce n'è ancora ecco direttamente sotto la lingua magari ogni mezz'ora ogni ora lei ha creato un protocollo chi fosse interessato mi può contattare se non abbiamo molto altro possiamo farlo anche normalmente prendiamo alcune 5-7 gocce di menta 5 gocce di lavanda 5 di incenso prendiamo questa volta se invece è grande così facciamo 10-10-10 sempre un rollon da 10 millilitri e ve lo applicate in più una cosa molto importante che vi ho detto prima è inalare 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 perché andiamo subito a lavorare sul sistema limbico le emicranie o comunque i mal di testa a volte possono essere frequenti o possono essere sporadici spesso possono essere legati anche al ciclo ormonale e lì possiamo lavorare anche con i clari calm per il ciclo ormonale anche per abbassare le tensioni questo del rollon che vi ho appena detto potete aggiungere anche del di blu lo potete fare anche ogni mezz'ora ogni ora come dicevamo prima acuto o cronico poi altri altri oli in generale ho già detto prima i polifenoli che sono delle capsuline che potete prendere direttamente c'è il di blu come olio di cui abbiamo parlato lo potete usare in diverse modalità il winter green che è l'olio della arrendevolezza mi piace soffermarmi un attimo sul di blu che se andiamo a guardare le carte emotive del di blu dice isteria dal dolore è anche la nostra soglia del dolore che dobbiamo un po' osservare quanto siamo disposti ad accettare ad accogliere tutto quello che ci accade poi abbiamo il past tense di cui ho parlato come roll on che è l'olio del sollievo qui di nuovo abbiamo il winter green abbiamo la menta abbiamo la lavanda l'incenso il cilantro che ha un odore da solo ma dentro nelle miscele può funzionare molto bene la maggiorana di nuovo come antinfiammatorio la camomilla di cui abbiamo già parlato e poi il basilico anche il basilico un ottimo antinfiammatorio antidolorifico soprattutto perché abbassa lo stress e il rosmarino come potrebbe mai mancare il rosmarino pertanto già solo con il past tense una mia amica che lo usava lo prendeva da una sua amica prendeva solo il past tense e mi diceva sempre si si caruna si si io lo uso no lei mi sembra sbaglio mi chiama ancora mela e poi le ho fatto conoscere invece tutti gli altri oli e anche lei oggi felicemente usa do terra da un bel po' di tempo la maggiorana è l'olio della connessione la maggiorana viene usata dopo vi farò vedere anche nel mio shot di morfina che non è mio ma ho preso ovviamente da do terra l'elicrisio è l'olio per allentare il dolore aiuta molto verso i dolori e il coba iba come antinfiammatorio ne abbiamo prima parlato poi il coba iba lavora molto anche sul secondo chakra infatti io lo do alla mia cagnolina per l'incontinenza e poi abbiamo mal di denti chi non ha già avuto il mal di denti allora io il mal di denti lo conosco bene perché soprattutto da quando sono con do terra l'ho proprio appurato sia io che mia mamma avevo infiammato questo ultimo dente dietro dovevo andare a Londra alla convention di do terra nel 2000 e se non sbaglio 17 o 2018 e ebbi paura a volare perché mi era capitato 30 anni prima per andare in Australia che con il mal di denti la cosa è peggiorata e una volta in astaglio ho dovuto devitalizzarlo volevo evitare tutto questo e allora il dentista subito voleva perforare voleva fare tutto quello che loro ritengono sempre necessario fare la cosa non mi stava bene ho chiamato anche la mia omeopata che mi ha detto no assolutamente non devi farlo ho guardato la mia bibbia come sempre e ho trovato cosa che funziona alla grande on guard la nostra miscela per il sistema immunitario perché comunque contiene anche il chiodo di garofano in più il chiodo di garofano e in più anche la mela leoca io li metto tutti e tre a mia mamma ne ho preparato una bottiglietta con già tutti e tre già pronti diluiti li mette direttamente cioè proprio si mette sulla mano e si mette sul dente più e più volte cercate di non metterlo troppo sulle labbra non perché faccia male alle labbra semplicemente dopo un po' ci può essere il pizzichio in quel caso lì basta prendere del burro di carite o dell'olio ricordatevi che gli oli essenziali non si sciolgono nell'acqua bensì nel grasso nel burro nell'olio e lo mettete più e più volte anche quando avete delle afte in bocca mia mamma capita ogni tanto dietro perché ha la dentiera e lei lo mette ha lì il suo diciamo il suo antidolorifico e mette sempre quello e per quel motivo non è mai andata a chiedere al dentista adesso mia mamma la sto curando invece per le gengive in generale mette la mirra ogni tanto sbaglia mette questo sulle gengive e la mirra sull'afte alla fine il lavoro funziona funziona comunque perciò il mal di denti lo shot di morfina come si fa tra l'altro non so se l'ho già pubblicato stanotte a mezzanotte l'ho preparato perché ogni tanto lo cambio e lo shot di morfina sono se io ho un dolore diciamo normale che si può comunque curare senza prendere ovviamente antinfiammatori prendo incenso e maggiorana prendo delle capsule vuote le apro e dentro ci metto tre gocce di frankincense tre gocce di maggiorana ci aggiungo dell'olio d'oliva chiudo e la prendo massimo due volte al giorno mattina e sera non di più non c'è bisogno però attenzione se invece il dolore è come dire è tanto è veramente tanto ci aggiungo anche tre gocce di lemongrass questo l'ho scoperto da poco perciò se il dolore è esagerato ed è molto acuto ed è in questo momento proprio bisogno che vada via aggiungo anche tre di lemongrass ma anche in questo caso massimo due al giorno non esageriamo perché non c'è bisogno in questo caso non se ne prende più di questo perché la posologia tra virgolette è questa tutti gli altri oli invece visto che non li stiamo ingerendo ma li stiamo mettendo a livello topico ogni due tre quattro ore assolutamente io purtroppo delle persone che ogni tanto mi dicono sì ma io lo metto mattina e sera se i dolori sono acuti o sono dolori cronici però costanti non è sufficiente mattina e sera bisogna davvero farlo più spesso ogni due o tre ore ecco questo è un po' non voglio attedarvi di più sui dolori questo è un po' quello che vi potevo dire poi il video lo potete riguardare ci sono diverse ricette che vi ho dato quello che ci aiuta la naturopatia in generale è osservare quello che ci sta succedendo perché qualcuno probabilmente è abituato io no io ho sempre cercato io ho sofferto molto di dolori ma ho sempre cercato di evitare gli antidolorifici per questo mi sono innamorata subito di do terra perché io utilizzavo molto l'artiglio del diavolo l'arnica tutte le cose più naturali del mondo da quando do terra io per me personalmente utilizzo questi perché mi trovo molto bene si possono ripeto ingerire si possono usare topicamente si possono mettere in diffusione si possono innalare direttamente dalla bottiglia ad esempio nel kit base l'80% sono brava mi sono ricordata sono ogni che si possono ingerire gli altri li possiamo mettere topicamente in diffusione a parte uno che non si mette in diffusione che è il di blu perché contiene la camfora e non si mette in diffusione chi vuole che è interessato mi potete scrivere vi posso aggiungere alla mia newsletter che mando tutti i mesi con diversi ad esempio domani è il primo di giugno ci saranno sicuramente molte novità molte promozioni per le consulenze one to one sono sempre disponibili o personalmente o al telefono online o in zoom le formazioni nostre sono sempre gratuite a meno che non ci siano delle conventione internazionali noi ad esempio Katia lunedì lei ha se non sbaglio la kit convention noi abbiamo fatto una convention online settimana scorsa e c'è stato un kit che si è esaurito subito ma adesso vediamo sono comunque oli che ritorneranno che torneranno in commercio presto e lei li vuole proprio presentare tra cui uno è appunto l'adaptive che è un antistress per eccellenza sia come roll-on sia come olio poi abbiamo ad esempio il nuovo olio la citronella anticipo già Katia e i semi di sedano ecco questo sono tra ah sì e poi c'era Katia anche il Together e Katia vi parlerà tra l'altro un'ottima miscela un'ottima miscela davvero l'abbiamo potuto acquistare per un prezzo davvero formidabile davvero buono il Together Katia sarò felice di ascoltare la tua presentazione domani sera mi raccomando Katia goccia su goccia potete anche seguire le sue di formazione chiunque di voi voglia iscriversi o registrarsi o acquistare gli olio di do terra è molto semplice contattate la vostra consulente se l'avete già se non l'avete ci sono io si acquista già con il 25% di sconto poi si possono avere ulteriori sconti fino al io ho fatto un calcolo 70% durante l'anno e ancora oggi ma solo fino a stasera più Yaropom è bravissima più Yaropom è la crema bimbi lei presenta domani sera sì perché c'era la fiala brava che non ho qui il Yaropom che è un tra l'altro ho scritto anche ho fatto un video no lo sto preparando sto preparando un articolo su Yaropom Yaropom è una miscela di cui vi parlerà Katia domani sera assolutamente ristrutturante e antiossidante perché Yaropom sta per Achillea è l'olio essenziale di Achillea insieme all'olio vettore di melograno ok l'olio essenziale già compreso dell'olio vettore più il siero che io applico tutti i santi giorni sulla mia pelle me lo sto mettendo anche sul corpo dicevo che fino a stasera le nuove iscrizioni con un minimo di acquisto ricevono anche di cui ho fatto il video e l'articolo Salubel un'ottima miscela che tra l'altro io ho qui nella versione antica che si chiamava Immortel di cui ho già parlato che comprende degli oli eccezionali e in alcuni casi anche rari mercoledì sera noi abbiamo sempre delle formazioni gratuite della nostra upline giovedì sera io ho iniziato giovedì scorso una sala su facebook sempre su facebook di domande e risposte questa volta sarà proprio sull'utilizzo generale degli oli essenziali potete chiedere quello che volete se volete venire e domenica prossima vorrei fare la presentazione sugli anziani tutti noi abbiamo dei genitori dei parenti delle persone lo facciamo anche per lavoro come aiutare gli anziani con gli oli essenziali e poi la prossima domenica vediamo se riesco a presentare anche quella per i bimbi io penso di aver detto tutto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi potete riguardare la registrazione in ogni momento se avete domande particolari se desiderate che io faccia qualche consiglio su qualche prodotto in particolare o qualche patologia in particolare fatemelo sapere potete scrivermi in privato o sulla pagina nel frattempo vi ringrazio vi auguro una buona domenica mi dispiace che non ci sia il sole ma ricordiamoci anche quando non lo vediamo il sole lui splende sempre buona giornata a tutti grazie a tutti